Bella ragazzi, sono l'Erorus, bentornati in questo nuovissimo episodio di Breath of Fire Allora ragazzi c'è una novità splendida, è tornato online, la guida Non so, probabilmente ci saranno stati dei problemi, non lo so, comunque Nello scorso episodio io ero senza guida, senza alcuna guida perché non mi faceva aprire la pagina Adesso fortunatamente è tornato come prima, quindi adesso siamo più tranquilli Allora, siamo qui nella Locanda Topo perché un brutto signore che non si è neanche presentato a dare la verità Ci ha resi piccoli, piccoli, piccoli e che voi ci credete o no Adesso siamo all'interno di una fessura di un muro E va bene, e ci siamo fermati qua Ora dobbiamo proseguire per questo qua Ok, dobbiamo proseguire di lì Perché il Topo, che sarebbe questo qua, era prima qua bloccato, che ci bloccava il passaggio Adesso che abbiamo dormito nella Locanda, Topo si è sbloccato Quindi adesso dobbiamo per forza andare di qua Quindi vediamo cosa c'è Ah no, è questo anzi Le blatte Senti, fai un automatico Che tra l'altro sono anche abbastanza resistenti Ok, devo assolutamente migliorare la difesa di lei perché è qualcosa di assurdo Ma se non sbaglio lei dovrebbe essere in difesa, sbaglio? Non è vero Ok, dovremmo essere a posto Ok Adesso devo assolutamente ritornare indietro Fuga E' fanculo Ecco, è morta Allora, anche se muoiono Teoricamente se si dorme Vabbè, alla Locanda Ma a qualsiasi Locanda Teoricamente si dovrebbero risvegliare E dovrebbero Sì Sì, sì Ok Quindi non c'è bisogno di C'è pozioni di Magie o Item particolari Che due palle questi blatte E non si può neanche scappare Quello è il bello Queca puttana, fanno un danno assurdo Ox sale a livello 21 Sì, Ox Ha abbastanza indietro No, scusate, ma io voglio avere la La salute piena La salute No, basta Voglio la salute piena Di qualsiasi personaggio Vabbè, basta fare un pal 3 Così per qualche passo Possiamo stare tranquilli Ok Si finisce subito, eh, però Eh, vabbè, però Se No, ma questo è un labirinto Che palle Qua non c'è niente Non è che forse Lì la maga C'è qualcosa Esci da un sotterraneo Questo è utilissimo Warp Vabbè, ce l'ha anche lei Ah no Fuggi da una battaglia Flee Ma secondo me Come Effetto sarà uguale Alla fuga Ok, questo Ah Siete qui per rubare Il nostro cibo? Io odio gli umani Causano solo problemi Ah, blatte Ste volte più cazzute Niente paura Dragotuono Lei Vai con Free Va bene Tu attacca normalmente E anche tu Perfetto Sì, insomma Anche in difesa Non è che sia Ok Male Molto male Ancora Qui su questo Sì, ma è stranissimo 999 Su di lei Vai No, tu non puoi fare niente Quindi Attacca lui E tu fai un cura Su di lei Perché Altrimenti E infatti Abbiamo fatto bene E qui sono Sono ben tre boss Beh, perché Perché non è Non è Non è Lo ha fatto Allora Fallo Ehm Tac E Anche tu Attacchi Ah Ah Ok Fin Finché Attaccano solo Di noi Non dovrebbe esserci Trovo problema Insomma 95 Non è neanche Chissà che Allora Qui qualcuno Deve Assolutamente Eh Ma te Sei troppo lenta Rischio Anche se Temo Temo Di non Averne più E infatti Eh no Però Ho della carne Però Eh Eh no Però Questo Cura Due Ripristina H HP Di tutti Provo Aia Aia Manco Ok Stiamo rischiando Un casino Ragazzi Grazie Blue Mi ha salvato Il culo Adesso Provo Ad Assorbire Con un po' Di HP Però Porca Puttana Quanto St'accocciando Però Fa Fa male Oh E uno Andato Dovremmo Mandare Anche Quello No E fallisce Ah no Secondo me Fallisce Sai perché? Perché C'ha la salute Piena Quindi Finché Non viene Attaccato Beh Comunque Io Io In assisto Hai attaccato Eh Eh no Non attacca Blue Non attaccano Blue Allora Fai cosa Normale Fai Terra E vai Attaccati Normale E adesso Lo fa Vabbè Porca Troia Arga Battuti Da degli Umani Che Umiliazione E vabbè Esplodono Ok Non ha più Effetto Va bene Ok Qui non c'è niente Questo si Un boss Anzi Tre Tre boss Effettivi Adesso Teoricamente Dovremmo aver sbloccato Anche un'altra area Teoricamente Adesso Vediamo Eh guarda Grazie del vostro aiuto Grazie del vostro aiuto E Va bene Ho capito Grazie del vostro aiuto Prendete questa puzione curatrice Vabbè Sì 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 Ci fermiamo Ci fermiamo Che dobbiamo ripristinarci Tutto Quando dico tutto Dico tutto Grazie Prendete questa puzione curatrice Erba E Cura M Drag Esce velocemente Con La cura Topo Ah Esce fattore Ecco E ci fa tornare Normali Era anche ora Che cazzo Quindi abbiamo finito Perfetto Possiamo Possiamo andare Oh che cazzo Qua è bloccato E ci sono dei nemici Chi è? Oh questi cosi Fanno male? Eh dai Sono abbastanza Dai Grande 19 Curs Porca troia Questo Ecco Ah so Ora Quella specie di Fantasmino Teoricamente Dovrebbe significare Che sono stato Maledetto Ma comunque Non c'è nessun problema Perché C'è Mina Mina Che Si Che sistema Tutto Quindi Non ci dovrebbero essere Problemi Vai con queste piattaforme Eccolo 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 Era Ragazzi Il tizio Che ci ha fatto Riempicciolire Però Un attimo Che controllo C'è cazzo Non dovrebbero far No Ok Sono abbastanza forti Si Lol Dai eh Di qua Dov'è che si va Aspetta Faccio Una pal 3 Perché Altrimenti Pal 3 Pal 3 Pal 3 Dov'è la pal 3 Oh Ok Ok E qui giù Praticamente Non serve a niente Ah no Serve Serve Perché Dobbiamo Andare qua Ecco Abbiamo fatto Un po' Una cagata Però vabbè Vediamo Vi siete salvate Una volta Ma non succederà Di nuovo Vi farò diventare Cibo Per il mio Mostro Bra 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 Ah Allora Dragotuono Magia E' piena Di morte Ruba PS Attacca Attacca Ok Noi possiamo Attaccare Dal prossimo Turno Eh no Fallisce Lo stesso Eh se Va bene Lei è già Morta Però Posso fare Cambio No No è proprio Morta Proprio Morta Ah no Posso Posso Eh metti Nina Fai 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 Blocca Blocca La magia nemica Cresce Forza Difensiva Del gruppo Ok Sì Eh Eh Siamo messi male Un po' Tu continui a attaccare Tu Cura tutti gli HP Sì ma di uno o di tutti Di uno Svenuto un HP Rallenta Riduci danni magici Facciamo blocca Vediamo E tu Curati Ok Dovremmo Dovremmo esserci Sì Pam 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 paramparam Il mio fiore velenoso Vi spedirà Nella spirale Della follia Nicolie Quel fiore Ha fatto impazzire Tanta gente E mi ha trasformato In un mostro Lascia che ti aiuti Nina Usa La pozione Cura due Dovrebbe funzionare Non capisco La tua pozione È troppo Debole Portiamolo fuori Che c***o Beh scusa No Quell'animazione Mi ha fatto troppo Ridere Non so perché Nicolie Cosa Cosa le avete fatto Non sapete distinguere Un uomo Da un mostro Scusa Siamo stati costretti Posso curare Le sue ferite In un attimo Mi servirà Dell'olio Che è Olio cuore Trova una rana E portami su Una rana Dove c***o Trovo Una rana E poi da quando Le rane Con la rana Si fa l'olio Ci sono delle rane Nella grotta rana Dove Mi hai sentito Si ma dimmi Do Ma che Aspetta Sta facendo tutto lui Allora No Posso rientrare Grazie Questa è Ghast Porta Coso Allora Si Allora ragazzi È normale Che qua C'è un cane Stavo dicendo È È È È normale Che qua La Gente parli In modo strano È È normale Poi In questa città Ci dobbiamo ritornare No ma è una capra Che però non fa niente Qui c'è un masso Che però Vedo che non serve a niente Che qua ci sono le altre Ma È questa Paltrain Un più Una mosca ha mangiato il mio pranzo Il mio stomaco brontola Cosa c'è qua È la grotta rana È sempre Ghast Aspetta Perché Scusa Un attimo Che qua ci sono un paio di cose Che non vanno bene Ad esempio Questa deve stare secondo Così Che cazzo è successo Che cazzo è successo No Ok Piccolo problema Indiretta ragazzi È caduta la connessione Vabbè poco male Vabbè poco male Ho fame Ma il formaggio Non mi piace Forse potrei mangiare questo È un altro boss Ok E in tutto questo La connessione è caduta Però vabbè Vabbè senti Giusto perché sono buono Blocca il nemico E tac E tac Porca troia C'è Una mosca Una mosca Ha tutta sta vita No 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 Allora Così Poi Fai Cresce La forza difensiva E te Datti una cura Sì che detto così Fa Fa pensare male Però vabbè Dai ammazzate Quella mosca Che cos'è Aumenta la fortuna Aumenta l'attacco Ehm Facciamo che Aumenti l'attacco Su di lui E voi tutti gli altri L'attaccate Forza Aumenta agilita Fa su di lui Quindi adesso Dovremmo Attaccare per prima No No Lui è Sempre La più Veloce Nulla Se lo dici tu Riduci danni Magici No ma lui fa Fa solo Attacchi Recupera tutti gli HP Rallenta il nemico Fai così Su di lui Ok Curiamoci Dai che muore Grande Carp Sale a livello 23 Sì ma che comunque Fa cagare lo stesso Che fatica Ora Portiamola Alla rana Ricevi Mosca Ok 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 Io questa cosa Non la sapevo Che bisognava Entrare qua Vabbè Ora Una mosca Ora Questa cacchio di rana Dov'è? Lei? Perché qui c'è una nascosta? E così Il fuori dei draghi neri È la cosa Della Pazzia Eh Sì ma si può sapere Innn Allora la rana Dove sta la rana? Sicuramente sta Sta fuori Paraparaparaparaparaparapar Eh vabbè Allora dillo Dai ammazzatelo Porca troia No No Boh è stato maledetto Paraparaparaparaparaparaparaparaparapurupo Dai No Ascolta Già che ci sei Fai Una curata Mega Iper Veloce Per favore Eh Ok Basta Siamo a posto dobbiamo andare per di qua no dobbiamo andare per di qua quanto pare oh questi qua no questi qua proprio niente dobbiamo scendere a questo punto e questi che cosa sono non so ma fanno si però fanno abbastanza schifo vabbè andiamo un po' in giro anzi in giro no 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 fermi tutti lo faremo nel prossimo episodio ragazzi quindi stiamo a sicuro qua nella città ok stiamo sicuri qua nella città e nel prossimo episodio andremo alla ricerca di questa benedettissima rana che dovremmo prenderci l'olio non so che tipo di olio è l'olio rana ma va bene se al gioco va bene questo a noi ci va bene comunque allora quindi ragazzi direi che per questo episodio di breath of fire direi che è tutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se volete venire a aggiornare i prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio marcomano vi direi anche la vostra nei commenti e noi ci risentiamo con un prossimo episodio di golden sun golden sun no golden sun in questo periodo guarda è un macello assurdo guarda lasciamo stare va bene breath of fire bella bella